Ma non fu una scintilla, fu un incendio. E già, presidente, un incendio. E in effetti, tra le fiamme dell'inferno, c'era proprio il Milan, dopo tanti scandali, dopo la dipartita del Paron Rocco, e in quella situazione non poteva che pensarci lui, il presidente della salvezza. A Milanello, la statua di Nereo Rocco, dista pochi metri dal monumento di Michele Cascella, voluto per il nuovo Milan, proprio da Silvio Berlusconi. Ed è esattamente quello che è successo nella storia. L'allenatore euromondiale e il presidente storico è come se si fossero passati il testimone. Il 20 febbraio 1979 se ne andava lassù il Paron. Il 20 febbraio 1986 il presidentissimo rossonero salvava il Milan, da una delle bufere finanziarie più difficili della sua intera storia. Trieste, iconica per la storia rossonera, anche grazie a Cesare Maldini, iniziava a defilarsi. La custodia del destino del Milan passava ad Arcore, nel verde della Brianza, nel cuore della operosa provincia lombarda. Ed è proprio ad Arcore che si è svolta la famosa Congiura degli Innocenti, con Fedele Confaronieri, Paolo Berlusconi e Adriano Galliani, tutti impegnati a convincere definitivamente Silvio Berlusconi a impegnarsi lo stesso per salvare il Milan, nonostante qualche ultimo dubbio, nonostante i tanti debiti e le tante incognite sui buchi di bilancio. Ma non fu una scintilla, fu un incendio. Un incendio, vero, rafforzato anche dal vento forte, perché per tutto il calcio italiano, europeo, mondiale, l'effetto Berlusconi è stato un tornado. Il centro sportivo di Milanello è stato trasformato in una moderna fabbrica dei gol. Ecco le diete, una organizzazione sanitaria moderna, efficiente, lo stop ai vecchi monopoli di mercato, l'amore per un calcio offensivo, anche in trasferta e non solo in casa, le rose allargate, il progetto di un campionato europeo come sarebbe poi stata la Champions League, questo è molto alto, tutto pensato, tutto fatto, con l'energia di una grande e collaudata passione per il calcio. Solo milanisti da sempre nella famiglia Berlusconi. Rossonero il patriarca Luigi, che ha dato il nome ad uno storico trofeo, milanista Silvio, milanista Paolo, milanista Pier Silvio, milanista Luigi Junior, milaniste, le figlie Marina e Barbara, milanista il programma triennale. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore, sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. Così tanto milanista che il Milan avrebbe vinto molto prima dei tre anni previsti. Ma non fu una scintilla, fu un incendio. Scintille? Le scintille in fondo il Milan le lascia agli altri. Diventato presidente il 24 marzo 1986, Silvio Berlusconi incassa pochi mesi dopo le prime battute polemiche degli avversari. In particolare da parte di Stefano Tacconi, che era il portiere titolare della Juventus, campione del mondo in carica. Il Milan del luglio 1986, rafforzato dal mercato ed elegante nelle sue nuove divise, si era presentato in elicottero all'Arena di Milano con la cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner, che raggiungeva il cielo di Milano con le sue note. «Li useranno per scappare dopo le sconfitte gli elicotteri», la frase di Tacconi. Il Milan, naturalmente, non replica, si mette in gioco, in discussione, fino alla prima qualificazione in Coppa UEFA un anno dopo, grazie allo spareggio di Torino contro la Sampdoria. Forse la cavalcata delle Valchirie era stata troppo forte come presentazione, ma il primo luglio 1987, al castello di Pomerio, a Erba, sempre in Brianza, i toni sono diversi. Non è un Milan trionfalistico, ma un Milan strutturato, determinato, al quale Silvio Berlusconi affida la sua mission, vincere tutto in Italia, in Europa e nel mondo, convincendo sul piano del gioco, nel rispetto del pubblico, dell'arbitro e degli avversari. Non solo una mission, ma uno stile, che il nuovo presidente aveva preannunciato già prima della convention di Pomerio. I milanisti ne rimangono ipnotizzati e forse anche un po' gli avversari. Ma non fu una scintilla, fu un incendio. Dovevano essere solo scintilla, invece. Gli anni di crescita e programmazione prima di tornare a vincere dovevano essere tre, ma al primo anno è già scudetto. Tutto questo è accaduto contro un grande avversario, come Maradona, e con Arrigo Sacchi sulla panchina del Milan. Feeling, visioni, idee, il presidente innovatore e l'allenatore fuori dagli schemi. Entrambi si sono ritrovati sullo stesso terreno. È così che è nato un Milan che non voleva semplicemente vincere, ma che va a Napoli nella partita decisiva senza fare calcoli, per vincere dominando e di goleata. Trovammo in Arrigo Sacchi qualcuno che ci dava delle garanzie circa il modulo di gioco, il comportamento in campo, la capacità di tenere insieme il gruppo, di formarlo con obiettivi precisi. I Milan di Silvio Berlusconi sostanzialmente sono stati tre. Gli immortali di Arrigo Sacchi, gli invincibili di Fabio Capello e i meravigliosi di Carlo Ancelotti. Nei propri calciatori di riferimento e negli acquisti più importanti, il patron ha sempre cercato sorriso, tecnica, qualità, appilla. Se c'erano tutte queste caratteristiche, allora partiva il classico vai e colpisci, rivolto ai propri dirigenti di mercato. Nascevano così i palloni d'oro, di Gullite Bambasten, di Shevchenko e Kakà, belli, forti, vincenti, come Baresi, Franco, io e te lasceremo insieme, la frase di sempre. Come Paolo Maldini, quando si è fatto male alla spalla nella finale mondiale, ero preoccupato, come per mio figlio, aveva detto Silvio Berlusconi dopo Milan-Olimpia-Assunzione di Tokyo nel 1990. Come Zedorf per il suo carisma, come Pato, chiamato affettosamente Alessandro e come Ronaldinho. A proposito, il presidente del Milan aveva appena messo d'accordo Russia e Stati Uniti, ponendo fine, a pratica di mare, da premier del nostro paese alla guerra fredda. Ma il primo pensiero, subito dopo, era stato quello di raggiungere Milanello per far salire Ronaldinho su un tavolino nella sala del Cammino e per fargli promettere che dopo la partenza di Kakà lui avrebbe preso il Milan e avrebbe fatto una grande stagione. Promessa mantenuta. Ma non fu una scintilla, fu un incendio. Fiamme, incendio, brucia, eh? E' proprio questa la frase che si legge nel labiale di Carlo Ancelotti a Yokohama nella festa immediatamente successiva alla premiazione del Milan appena diventato il 16 dicembre del 2007, nel giorno del suo compleanno numero 108, il club più titolato al mondo. Da Como a Yokohama dal maggio 1988 al gennaio 2008. Vent'anni dopo è la mission realizzata, scritta, concretizzata, fatta e rifatta più volte. E' l'ultima volta che Silvio Berlusconi alza al cielo di San Siro un grande trofeo del Milan brandendolo come una forte storica spada. Con passione, con cuore, con il sentimento di chi ha fuso nel Milan il calore della grande famiglia con l'efficienza della grande azienda. Con l'entusiasmo di chi, molti anni prima di Daniel, aveva saputo essere profetico anche sulla storica dinastia Maldini, la famiglia che ha anagrammate nel proprio cognome le cinque lettere della parola Milan. E la famiglia Maldini penso che ci darà ancora dei campioni per il Milan. Li stiamo tirando su. Grazie. 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 Grazie.